Cammino per la strada lentamente, una sera di dicembre. Osservo tante lucine colorate, la temperatura è tiepida, c'è aria di festa. Sento frignare una bimba capricciosa, mi chiedo, non ha ottenuto cosa? È vivo, è viva, la netta sensazione che altre volte è accaduto. In marciapiedi gremiti di gente, ma vi è ancora paura per il virus presente. D'un tratto qualcuno mi appella e dice, tanti auguri di Buon Natale. Nel mentre smetto di osservare, dentro di me comincio a pensare. Manca poco alla grande festa dell'anno e ognuno versa in affanno. Felicità e stare con le persone care, ecco, il giorno tanto atteso è arrivato. Una vocina canticchia, tu scendi dalle stelle, ecco, questo è il vero Natale. Quando il pensiero indirizza il cuore, soltanto verso nostro Signore. Auguri! Grazie.